Pronto Pronto Virginia Eccomi qua Guarda Faccio vedere in diretta Guarda qua Questa Questa l'hanno riparata Una settimana fa Gli giorni fa che ne so E qui stanno tutti Incazzati stanno Perché dice I romatismi gli stanno Guarda l'acqua che si spreca E che ne so Guarda tutte queste toppe Sono tutti interventi Ai Virgì sono tutti interventi Che hanno fatto Mannaggia la miseria Ma quanto costa Che poi paghiamo noi Che ha la bolletta Mannaggia la miseria Virgì Oh se l'azionista Da maggioranza De sta cazzo Qua devono rifare tutto Devono rifare tutto Oh Va bene Tutti i giorni Tutti i giorni Lo senti Stanno incazzati qua Eh Ah Virgì vabbè Io vado a fare un giro Controllo tutto quanto E ti faccio sapere Ma non è possibile Ma da quant'è che è così? Ma da quant'è che? Ma che cazzo Io ci ho parlato pure io col sindaco Ma non ci ho parlato col sindaco Eh vabbè ma il sindaco E' suo E' suo E' ho capito 5 stelle cazzo Meglio di loro Ma che cazzo Chi è il sindaco 5 stelle? E' nostro Qua Ma che è questo sta co 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 No no ma ha detto lui Ci ho preso il caffè Ti ha detto che è 5 stelle? Eh Ha preso per Cuba Eh? Ha preso per Cuba E' messa tanto da si? Sì Ma tu sei 5 stelle? No no Eh perché può essere che Dice te che sei? Sono demolistiano io pure Ah no no io gli ho detto Politicamente gli ho detto niente Poi stavo con l'assessore De Grottaferata Stavo a Piazza del Caffè Lì in piazza Eh Automaticamente dice lui è del 5 stelle Ma ha detto l'assessore A Grottaferata? No Alla piazza dei Frascati Rio dell'Amazzoni Rio dell'Amazzoni Ho parlato proprio Sì Sì Ma guarda E' una cosa pazzesca Avranno fatto Guarda E' ogni top Ogni top 100 top Io non so questi Se vai giù c'è un'altra pezza di questa Ah sì E allora mi vado Dopo il ponte Dopo il ponte c'è un'altra pezza Quale ponte? Questo tutto Ah è là giù fuori Vabbè andiamo andiamo Fa lavoro là Stanno con tutta l'acqua dietro dentro Andiamo 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 a vedere